Eccolo, ecco Fabione, ben arrivato, tutto bene, viaggiato bene, grande, grande, ben arrivato a Roma, sono contentissimo, siamo arrivati, siamo arrivati, con il nostro grande Fabio, grande Fabione, andiamo, 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 andiamo a casa di Dino. Favo a me questo incarico, eh? Questo pezzetto sì, poi dopo me la lascio a me. Bravo, che a me non mi va, viene tutto il tempo statale di casa. Sì, sani. Lilli, senti, Lilli. Vai, 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 codorino, certo? No, comincia a riprendere la casa, adesso riprendici mentre salutiamo tutti, eh? Che faccio, che faccio, busso, busso che i piedi, che faccio? Aspetta, ciao Lilli, 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 Fabio, adonà, vai adesso, entra, entra, ciao, ho portato Fabio, entrate subito, no, 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 aspetta, la tengo perché esce, ciao Lilli. Fabio, adesso avrai un milione di cocco, eh? Ciao Fabio! Fabio, come andate il viaggio? La trova benissimo, bello, bello. Aspetta, direi che adesso Lilli si fa tutti quanti, eh? Ciao Lilli, che c'è? Ma non è bello, eh? Vabbè, dipende dai punti di vista, intorno. Oddio, riprendi, riprendi tutto. Marcolino! Ciao, ciao Samuele! Ciao, io e Marco! Ciao, ciao Samuele! Ciao, ciao Samuele! Ciao, ciao Samuele! Ciao, ciao Samuele! Ripendi, ripendi, salutatevi, salutatevi! Ciao! Scusi! Ah, scusa! Vieni, vieni Fabio! Ciao, ciao! Ciao, adesso! Vieni, doppi con voi! Ciao Samuele! Cioè, so profumo si sente sulla segretta da quell'angolo, non so distru... Da la parte vicina autostraducita a Parmontone! Non so raccontare i tuoi viaggini... Permesso... Qua riprendi bene, eh? No, lo ripreso... Visto, lo ripreso... Yes! Sì, eh? Fate spazio... Busto di piedi... Come sono diventata la pashmina! Eh, vabbè... Ciao, caro! Mi sei rappresentato con Fabio? Com'è no! Siamo! Già con uno secondo ti avevo caso! E tu? Vabbè, vabbè, vabbè... No, basta! Ci siamo salutati! Ci abbiamo tutti? Ci abbiamo tutti? Guardi la sua segna, eh! Guardi il mio figlio! E l'ho vista subito! Quella è stupenda! No, c'è proprio... Vabbè, hai fatto libero! Vabbì, hai spento! Bravo! Hai spento? Ehi tu! Ehi tu! Fabio che rimira la collezione di Dino! Ogni volta la riprendiamo! Io ne ho solo tre, però pian piano mi arriveranno! Eh, ma... tre ma buoni, eh! Tre ma buoni, eh! Io cominciavo molto tardi, lo sai, Fabio! Anche te! Ho cominciato... Davvero molto tardi! Tu hai cominciato 4-8, però! No, io ho 4-8, però! Guarda, io... Che è il top, però! Io sono già... Quando andavo in fiera... 20 anni fa, quando avevo visto il primo gol, io lo vedevo in fiera, la gente che non prendeva chi andeva, ma io non potevo bene! Anche io! Questo è... Infatti, se qualcuno me lo regala... L'anno scorso mi è andata bene che ho avuto dei mille euro in più in tasca, ho detto... Cazzo, vaffanculo! Lo prendo! Però secondo me, ho visto che hai visto il Go Sigma! La prendono un po' Il Go Sigma, secondo me, è tra i migliori in assurdo la trasformazione... Bello, bello! Quanto è bello Go Sigma! Sei soddisfatto del Go Sigma? Eh? Ma Go Sigma, secondo me, è uno dei più belli che io ho! I più belli! Non ho visto gli altri, quindi io non so niente! Ah, io ho! Questo è tuo! Nooo! Ed è questo qua! Me l'avevi prometto! Ma come ti hai spinto? Il televisore? Pese, ciao! Ciao! È questo qua! È questo qua! Sì! Sì! Ho fatto vedere tutti gli Extra! Gli Extra! Tutto di tutto! Eccezionale! C'è un grande, grazie! Io sono gli Extra degli Extra! Gli extraterrestri! Gli Spaziali! Gli Spaziali! Il Full HD! Il Full HD! Sì! Ma io ho visto alcuni quadri che hai fatto! Eccezionale eh! Allora io devo dare il tuo! Ecco! Ah! Io devo dare il tuo! È qui! È il suo? Ognuno è il suo! Aspettate un attimo! Gianfargo! Sì! Chi è? Dica! Questo è tuo invece! Eh sì! Com'è mio? Sì! E io che c'entro! Guarda! Guarda! Guarda bene il tuo però! Guarda! No! È logato! Me l'ha logato! Non te l'ha logato! No! Me l'ha dato Nichi! L'ha fatto! L'ho fatto io! No! Che scherissimo! Qui? No! Io piango! No! Io piango! Io piango! Andiamo via! Grazie! Lascia stare Samuele! Sì! No! Piango! Si è spenta di anni! Sì! Sì! Oddio! 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 Annaggia! Cioè qui ti lo sto distribuiti! Tiputivo! Tiputivo! Tipo come il pane! Tiputivo! 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 Tiputivo. Pties, Ascolta. Parsi, Gen biriore! Oh, Paolo, alla fine, non ti manco Alla fine, non te lo la Ah, qua, è la risma Si Ah, il libro game Lupo solitario No, questo è Si, lupo solitario, dieci Chi gli aveva detto? Ma sono nuovi Quelle che ho trovato Sono venuti con gli stampi Quindi sono tutti quanti Quelle nuove che li mandano Con questo ho finito tutta la collezione E sono gli unici due nuovi che ho Ah, quindi poi l'hai completata Si, tutta quanta Sapevo che gli mancavano i due Nuovi? Non lo sapevo, perchè non lo trovai stanno Mi sa che è del 2007 8, non so Grazie Fabio È il minimo, guarda Io dopo tutte le volte che su Facebook Tra i complimenti che mi hai fatto Sei sempre stato gentile Ma Dino Io ho sempre detto Dino è una persona meravigliosa Grazie, guarda No, questo è mio Questo è mio Poi invece questi Siamo tutti quelli che ho fatto Lilli L'ho zetto L'ho zetto L'ho zetto L'ho zetto L'ho zetto L'ho zetto Ma che ha fatto? Ma che ha fatto? Ma che ha fatto? Ma che ha fatto? Cascritta il giapponese Non lo vuoi per farmi vedere? No, non lo vuoi tanto tanto Io dopo voglio il foto Ok Nooo Mamma mia che meraviglia Guarda che tavolata E' in modo da più delle vizze Tu la fa fine poi eh Comoratorini dell'amore mio Si comincia a intravedere qualcosa di buono Eh Non allungate le mani Hai visto? Dov'hai messo? Dov'hai messo? Pena male che dici quattro Deve arrivare Deve arrivare Deve arrivare Deve arrivare Vedi Dove le mettiamo questo? Questo è quello che ti dicevamo Fabio Che dici? Mi fa una cosa Ma vissi dove agli oli? Ti prendiamo uno Eh gli oli E pure i bicchieri Male che male Andiamo a prendere Alla fine Facciamo una passeggiata Rotoriamo Perché passano pure le fricchette Capito? Eh Eh Questo che lavoro Eh Visto si Da morire Dai 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 Basta niente Chi è? Dalla pasta Tu ti curi di tutto E ci manca questo Vai 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 Questo Eh Hai capito? No perché Hai visto là che non passava no? Allora Ci mangiamo tutto Io non metterò indietro Ehi 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 Però Il Gai King ce l'aveva uno Ma questo 40 è più spesso Adesso quello che mi interessa Il prossimo è Il prossimo è I tradi del Get Eh beh Sembra No No Sono alti Eh Romano su 299 Io l'ho pagato 170 E' già un boccato Io non vi dico quanto l'ho pagato A me vabbè Io a RomaComics Le ho regalato Una botta 150 A RomaComics Al Paladotto Mario Non ho affittato eh E' una cosa che non ho affittato eh No L'aveva dato già A un notizio Si si ci ha raccontato Quindi Io non ho affitto mai Mai Ma poi ieri abbiamo messo E' questa quella bolla Ma c'è nessuno Si eh Questa è per la sua signora Ahahah Ecco vedi Che viene da lì I castelli romani Così l'ambriagamo bene stasera Eh Come l'hai messo con la Eh Cosa ne hai capito La chicca assurda Beh se poi La volete assaggiare Aaaaaah C'era Io ho comprato quella adesso Tutto ripassi E' così E' così Le bollicine E' così come è Fabio ha portato le bollicine No No Le bollicine Le bollicine Alla faccia le due Sai quale mi piace tanto Anche C'è ma stai E' un c'è troppo E' un c'è troppo E' un fritto Aspetta Sta mancavato no Come stiamo usando la corso Tu giuro Ah mai che l'ha fatto così Scrono Ecco Hai fatto una manetta Un'altra che Si accrocca Guarda come Ah oh No Ah e papà E' bello che adesso io non parlo niente Lo voglio niente Però può salire di Dio Stai a parlare del principe Namor Ah pure lui che ci dice Grazie caro ma dai E' dei dedito cola Come non l'avevo mai messo E' bravo La parla del principe Namor Namor E' adesso sui cento Namor Namor è la perfetta riproduzione di quello Ti ho messo in bacheca Ci ho messo in bacheca L'ho sbaccato Facciamo un brindisi a Fabione Fai buon Auguri a Fabio Auguri Grazie Ma che c'hai? Cosa è che tu hai fatto? E' un po' E' un po' E' un po' La che è il tuo Alex, la sono io e tu mi hai mandato Me la stanno chiedendo tutti quanti Ehi, a te mi dice Anullo Jig Il Day Kang Tutte Tutta gente che diceva Stai ancora in mano a Godek Mi dicevano Adesso vogliono dischetti Vogliono portachiavi Dove si trovano Tutto di tutto E' una cosa assurda T'attacchia Bellissimo Bravo Il mio capo mi diceva Oh Stan, qua in mano a Godek faceva A un certo punto il mio capo mi ha detto Quelli erano degli anni straordinari Ha detto tu Mi faresti un dischetto Faccio te fare una lama rotante proprio qua Guarda Se lo potessi Però lo capito E se lo dice il capo Eh Il capo per il capo E poi il capo mi ha detto Lo vedo insieme al mio bimbo Il suo bimbo c'ha 16 anni Un bimbo Un po' si sposa il bimbo Hai capito Un po' si sposa il bimbo Mi ha fatto la resi del bimbo Tu pensa che abbia dato un bimbo Per il mio amico Per il mio amico la stazione In auto c'aveva lo stereo E c'era Io c'ho tutta una compilazione C'era Wall Boys L'Aisla Bonita di Madonna Eh, tante Poi c'erano Yabba Poi qualche sigla Insomma Poi per l'Hot Shot un'altra volta Tutte 25 De Yabba? Un'altra volta No, l'Hot Shot Tutte le compilazioni Anche anni 80 Poi è venuto qua E a un certo punto Shot un'altra volta Io non gli ho detto nulla E poi è rientrato Marco stava vedendo Stava vedendo No, il grande Mazinga Stava vedendo Il quello di DVD Ha visto qua Ha visto il pc Con tutti gli sfondi Il grande Mazinga qua Fa Ma cosa è successo? Sono in diritto nel tempo Non mi ha portato fa Poco così Quello è quello Perché ti fa Mi piace Mi ha portato un pochetto Poco ti ha Marco Che vedeva l'autore Ma cosa è successo? Ma che mi ha portato in diritto nel tempo? Sai il buco temporale Magari 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 Sia vedi i dischetti così Tutto quanto Mamma mia ragazzi Una montagna di carne Sono io Stavete parlato di me Mi manca la manetta bianca Non è carino però Scusa Ho fatto La montagna di carne Che abbraccia che ci è voluta Per così Ho fatto Ho fatto una magra Ho fatto una magra Ma ragazzi Che piatto Il piatto Il piatto di plastica Che piatto I piatti di plastica Sono quelli pesanti La quale Diceva Un pranzo leggero Leggero Anche i piatti di plastica Sono leggeri Il piatto di plastica E' stato messo Però se qualcuno preferisce un po' in più Sta qua Questa è la pancetta Allora questa è la pancetta se tu questa la metti dirò una coltellata lei è già messa ma no, posso dare un pezzetto di talsiccia? come no? Samu? Samu? la talsiccia Samu? la talsiccia Samu? la pancetta? la pancetta? la pancetta? la pancetta? Samu la? la pancetta Samu? sono circondato, mi metto una coltellata io la devo tagliare non lo sapevano per me ma stasera ti devo partire non è unia di dio sul calcio nazionale non tieni sempre dentro in doppia parte scena se no c'era pure Zico e Zago ma con la faccia blu? con l'osso di Zico e Zago con l'osso di bolla a sveglia sul colo Arthurs Antunes con Imbra, dentro Zico, il tuo nascimento è l'altro Il tuo nascimento è fuori, lui vede il massimo, cambiava in base alla tua partita Non puoi andare lì a Fabio senza aver assaggiato questo Le fatti te, la fatti Carmen Donna Carmen, questa è la sua specialità Donna Carmen Biscotti di vino Ah si, lì, sono buoni lì Metti io gli ho aperto il bagno Fatti io ho detto, guarda non avete pane, ma fammi biscotti di vino La torta con i pinoli Non faccio, per farci mancare niente, torta ai pinoli Ah non faccio, ti dico io E' una torta con i pinoli Non lo faccio? Lui per natura non doveva stare dove sta oggi E quello è il problema E invece Ronaldo è quello che è Amore, è una delizia E lo so Aspetta Sia Refet o Ronaldo indietro Aspetta Ronaldo da Lima Permettendo che di Ronaldo ne esiste uno Quello che diceva Quello che diceva Quello che diceva La potenza non è niente senza controllo Quello che diceva di Nero Azzurro Esatto Oddio Tieni i cammini Ma è una cerchiera Ma è una cerchiera Era tutte quale È finito di mangiare No ancora no Reggi, reggi Che lo sciroppo? Andiamo di Mirto Il caffè E poi basta Finito Il caffè va è pronto Prego Il caffè va è pronto Prego Abbr Islam C'è un pochino da paura 5 minuti? Ma è tutto Si fa? E' brutto Ma che C'è tutto il BGM No il BGM E' fantasilandia? Il fantasilandia Quante servono? 15GB 15,5 sarebbero 4 diputini 4 diputini all'incirca e poi te li facciamo un carro però mi serve VGM ne cromai me la date insu aspetta, tu vuoi fantasidandia in diputini? ma vabbè no, a me pure... ah, in Fai Davi, vabbè, si sono circa 4 diputini A te Chia è rimasto? Tanti auguri a te, tanti auguri a Fabio, tanti auguri a te. Tagliare la torta senza toccare il colpo. Aspetta che era finita? Aspetta, l'appoggiamo qua. Aspetta che è buono, mettiamo il sesso. Mettila, metti la qua che è meglio. Ah, ma è giusto, giusto. Sì, è giusto. Sì, è giusto. Vieni qua, Lilli. Facciamo così. Speriamo che gradisci il disegno. Tieni, pancia la pena, su. Tanto stavo facendo questa foto qua. Se ce la facciamo anche io, però. Sei morto con questa qua? Aspetta che serve. Bello il disegno. Eh? Bello, bello. Chi è che ha avuto l'idea? Eh... Il Superman. Il Superman del 90. Mi ha sempre piaciuto il mazingo. Vai subito! Non vuoi? Ma è cucciazione. Sì. Bella? È molto bene. E di chi è? Ti conviene spegnere la candela? Prima che la cera fa la sua torta. La cera o la cina? Ma un disegno buono se non è arrivato incredibile. Eh, questo sta in una nota fantasia. Faccia lei. Senti, ma tra tutti. Chi è più forte? Evviva! Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni. Fabri, ci piaciate quelle rame? Adesso! Perfetto. Quanti mi fai colte? Il corse? Vieni, c'è nessun messaggio e poi c'è nessun messaggio. È male. Come devo mettere? Dove faccio partire il taco? Dove capita? ma non alla parola non lo faccio partire no, questo è oro dai su oee oee e qui non riesco al giornale? è quasi morto ecco, allora io appoggio qui ai vostri auguri a Fabio auguri una salute auguri auguri mi hai vinto mi ricordi Skyland allora io vado passando eh caro Fabione questo è la parte di tutti ecco Fabio questo la finisce qua oggi ah si ah il corno iiii c'è anche c'è una c'è una c'è una lettera del corno abbiamo parlato con le cose qua ho visto io non lo so eh ma guarda le cose classiche vanno sempre eh ma guarda le cose classiche vanno sempre Fabio One portate che non sia Peppa Beb ecco per capiti sonoro ahahahahahahahah io la vogliono ma ancora volete la torta? io non la voglio io non la voglio eh eeeh 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 quanti anni tu guai coraggio questa è la mia ok tu ce l'hai già là? tu ce l'hai? ah eccolo lassù sarebbe questo è molto mazziglio è molto Sheen è piuttosto di lo zettano più mazziglio ma io che stai facendo bene il punto eh? le ali sono stupende ma ho visto che mi piace il colore e poi una sciccheria e l'altra mano che tiene la testa di katata questo non è, questo è quell'altro quello l'è, come diceva il zocco di fatta la punta ah quello del zocco, si ho capito no no ce l'ha ragazzi è dolcita però non c'è altro di tutto e pulito non c'era bene, era benissimo non gliel'hai fatta mangiare la torta che c'è la cioccolata ragazzi? non gliel'hai fatta mangiare la cioccolata l'ha fatta mangiare la torta del parapente questa è la torta del ah 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 vedi là evidenti ci vai tutto da sopra tutta l'antica roba e i muri peri di metalli e vai sempre più su andai che bello, ancora di più non c'è non ci siano ma la sopra va più su, se va da giù va più su, no un po' meno su, qua più giù, giù no, devi stare solo su, solo su, solo su, oggi è il primo giorno che non vedo parapendisti, non l'ho sentita ma la voglio sentire giù strana, ma scusa ma come vediamo? siiii, questo è quello sotto banco, questo è quello che passa, questo è stato proprio battuellando 2014, questo è fatto giù a 3 a 1, oh guaggio, com'era Valè? Paravendio, questo è tipo un bioparco, bioparco, eh, che stavo qua? tutti al bioparco, perché quella è molto stretta, è molto stretta, Borgo Pio, non c'è il borgo Paravendio Paravendio, c'era Nicky, mamma L'ho detto, può vedere, Nicky, mancava idea qua al parapendio Paravendio, lì mi ha fatto vera, però quando a me a te c'ha scritto, c'ho messaggiato Paravendio, e poi un altro messaggio a presa, anima P— L'ha detto, proprio, poi 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 c'è messo il cuore, tutto a toccare si 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 ma pure ARIB si ma pure ARIB ARIB e che ha fatto ARIB e tu invece no perché è un'altra con la cosa con la cosa con la apostrofo e lui sotto e lui sotto e lui sotto e lui sotto c'è sta tutta e quindi mannaggia 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 il parapentizio una volta che ho scritto al collega mannaggia i dodici e lui ha detto tutto quella è l'isola della Maga Circe no? di chi? no quella è quella è Ponza subito dietro adesso c'è Foschia non la vedi che è quella che si vede appena appena eccola quella si vede la Sorcia? la Sorcia da un po' non ti vede io sto vedendo a scacchi ma lei che ha firmato adesso mi va adesso mi va la tranquillità che ho qua Non c'è Vanno prendere le ferie Ti vedi un paio di giorni in acqua finita Siamo a casa di Niki-san San Niki E sto confeando E ci fa vedere questa meraviglia Sì eh Caffè? Ma far che non è un dei momenti Chi è? Sì Sì Prendo il telefono e non c'è guanti sul telefono No No E' bello Ti vedi Che sono le vetrine del nostro amico Niki Sì sì No Come hanno detto Noi abbiamo finito gli avanzi di 10 Non devi mangiare? Io non ho mangiato ieri sera di giugno Sì No un pochettino abbiamo mangiato Perché a parte c'è la collezione Però ieri sera siamo andate a letto di giugno E cinque Io mi sono sorpreso un uccine con il limone E basta Sì 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 No il canone detto in inglese è wave motion gun Di canon Di canon Ma non c'è stato un wave motion gun Ma non c'è stato un wave motion gun Ci dovrebbe essere un wave Capito? Andando giù Vedi com'è No questi sono i cannoni normali Le torrette Queste sono le torrette Le torrette Le torrette Queste sono le bordate delle torrette Questi sono i cannoncini piccoli Quelli del lato Perfetto ma sono loro Queste sono le sassate Queste sono il caffè Questo è il motore con dei moventi Eccolo Allarme 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 No questo è il decollo C'è un suo perché Bellone Allarme 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 Questo da parte di Mia Ale Rita E Valerio E Samu Allarme 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 Aspetta Guarda un po' la scritta E' Yamatai E' già Ho fatto apposta Yamatai Yamatai Ma che ne sanno Yamatai Yamatai Ma che ne sanno Yamatai Ma che ne sanno Comunione Che vi dà la comunione No No E' stiamo Dempila E' il sacerdote Porta la comunione A fare meglio Vedi che è carino Oddio che è carino E' un fermacarte Che carino Allarme Allarme E' carino Cavalluccio Grazie E' un po' dulce C'è il sole E' dulce E' Chi è? Ho vinto eh Ho vinto Caffè pagano il casello Sì Noi Applauso che busta C'è una busta C'è una busta Prenda la busta Fornichi Laola P Ogni tanto Pernichi Fornichi Fornichi Un bustone enorme Per E' stato tanto difficile Scrivere il tuo nome Sì Perché ogni tanto Si dimenticava una lettera No No E' questa non è che si trova Si fa E' diverso E' stata fatta Indovina C'è C'entra una prima moda Ma chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto quello? Chi l'ha fatto quello? Scusate Ma noi stiamo scherzando Chi l'ha fatto quello? Stupendo eh L'ho fatta la sorpresa una mattina Guarda papà che ho fatto Ma è meraviglioso Bellissimo Questo regalo ti prende E' da morire 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 Ma è un giudorio E' da morire Stiamo veramente Stiamo qua Stiamo a casa Si eh No E' da morire E' da morire E' da morire c'è un perchè c'è un perchè e perchè giuva e' un po' sì ok, ah ecco ecco ok, non è che sta in ospedale ti guarda quella cosa no di qualcosa di strano e' un po' 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 un attimo va che è impegnato ma posso rompere qua? non può magari non non potee' non potee' non potee' non potee' non l'abbiamo fatta noi non si parla che era un ritorno quello mi ha fatto una sforbata da piccolo l'avevo la bambina mia nipote me l'ha portata tutta e io ho detto la devo ritrovata ma l'ha trovata sono a casa, va capirai, noi quando partimo poi tu con i piedi che ne la troviamo a moria mio vieni, vieni già l'hai sentito a te? non ci ostri, già lo so eh scusa eh scusa eh questa e' l'accoppiata vincente voi giustamente che non capiglie questo e' il pilota di Demil il pilota me ne vado e' lui e' lui che si trasforma fa cosi' arriva l'ampo e si trasforma in lui questa e' la gica lo sai cosa che c'è faccio? adesso la scena quando lui a Romics li vedeva tutti e due ce la unisco che madre e' lui ma tu sai che ho fatto l'altro giorno? vabbè te l'ho detto ho preso la serie si quando mi ha detto ho preso Dame eh? d'accordo se l'hai fermato capito? stupendo tu sei diventa a mano ma c'è sta proprio quello la della scusate prego 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 vado guarda quanto e' bello e' robusto perché in più e' in più no 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 e' cagliato si si spesa no 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 mi piacerebbe se' ho sudato si mi si 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 quando me l'ha detto questo è quello verde tu ce l'hai giusto questo l'avevo visto a Romics con quello tu mi stai guardando tutte e due c'è proprio la scena c'è proprio la scena sul video dove si guarda ci ha lasciato l'occhi sopra e' ora sei ripresi Non c'è la storia Ho capito che le persone sono state mezzo pregose quando mi hai detto di giudei scapati Eh 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 Te ne fa giorni e giorni a sentire su telefonate su telefonate E' arrivato, è arrivato, è arrivato E' arrivato, è arrivato! Ma perché non c'era? E' arrivato! E' sta la maffrevole Lui l'ha ordinato E' arrivato Perché noi volevamo questo colore Questo Perché lui ce l'aveva? Ce l'aveva quello ma l'aveva venduto Ce l'aveva quello ma l'aveva venduto Ce l'aveva quello ma l'aveva venduto Manco voglio dire fuori Questo con calma da solo Da solo deve Eh si è tutto ferro A parte le ali A parte le ali è tutto ferro Ciao Ciao Bene Fa piacere Ma da piccolo Non è una cosa Eh ma lo capiamo benissimo Lo capiamo perfettamente Da sempre Ma non è una cosa Mimicchi E' una cosa Ma non lo ha messo Così? E' si è 37 Versi di noi Ho 73 Vedi tu eh Per te devono essere pesanti 73 Mamma mia uno, due, tre, dai, bello di mamma esprimi un desiderio? Michi, esprimi un desiderio, per favore, grazie anche 37 desideri devono essere 37, eh senza gocce, senza gocce ha dato una botta di cera tutta il mondo, ti vediamo grazie